Mercoledì 7 giugno 2017. È il 158esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda San Landolfo, Vescovo di Asti. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Landolfo. Accadde oggi. Il 7 giugno del 1993, Prince cambia il suo nome con un simbolo e diventa The Artist Formerly Known as Prince, ovvero l'artista precedentemente noto come Prince. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al presentatore Pippo Baudo, nato a Militello il 7 giugno 1936. Volto della tv italiana, Baudo ha lavorato in Rai per ben 54 anni. Ad oggi detiene il record di conduzioni del Festival di Sanremo, avendolo presentato 13 volte. La citazione del giorno. Spesso prendiamo in prestito dai nostri domani per pagare i debiti dei nostri ieri. Cail Gibran. Dice il saggio. Il mare calmo non rende bravo il marinaio. Proverbio africano. La parola preziosa. La scorsa notte non riuscivate a prendere sonno e avete fatto uno spuntino? Esiste una parola precisa per indicare questo pasto dopo la cena. Pusigno. È in uso soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, dove Pusigno indica appunto un piccolo pasto, per lo più di cibi ghiotti, che si fa dopo cena. Pusigno. Pusigno.